al comando scatta impeto CAF allargo l'ISOP più allargo anche NOA B quindi impeto CAF l'ISOP che insiste su impeto CAF spende un po' l'ISOP ma si riesce a mettere al comando installare al comando nei confronti del numero 2 di impeto CAF poi c'è ancora il numero 3 di Matilde Re quindi NOA B al tallargo c'è Locomotion quindi Galad Ram in avanti l'ISOP l'ISOP che controlla la situazione l'ISOP in avanti ancora il numero 2 di impeto CAF quindi c'è Locomotion in scia NOA B quindi l'IS al comando ancora NOA B alle prese con impeto CAF poi Matilde Di Re Locomotion a largo quindi il numero 6 di Metello l'ISOP controlla la situazione si ci va a guardare c'è NOA B a largo di impeto CAF l'ISOP sempre al comando delle operazioni viene via Metello quindi Metello che viene via a largo l'ISOP terza ruota di Metello viene via Metello Locomotion che lo para poi c'è ancora l'impeto CAF quindi in avanti sempre e comunque l'ISOP l'ISOP ancora Impeto CAF Metello poi Galad Ram Matilde Di Re che viene via l'ISOP Metello che ci prova a largo viene via anche Galad Ram in avanti l'ISOP l'ISOP che prova la fuga dagli avversari l'ISOP nel tratto conclusivo controlla la situazione viene a vincere l'ISOP nei confronti di Metello che è secondo terzo è Matilde Di Re vittoria facile facile per Giuseppe Porzio vince già tre quindi cinque 6.3 l'arrivo ufficioso di questa corsa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti